La ricetta di oggi è un primo piatto, pacche di Cavalier Giuseppe Cocco con ragù di vitella, finocchietto e peperosa di sciguanga. Questo piatto nasce da un ricordo di infanzia che credo leghi molti italiani, che è il convivio della domenica, il classico ragù di carne. Il ragù della domenica credo che faccia parte della cultura di qualsiasi famiglia italiana, abbinato al finocchietto che ricorda l'isola siciliana, quindi terra di sole, e il peperosa di sciguanga che crea sul palato queste note profumate di pepe. Grazie a tutti!